Vuoi essere felice? Il web risolve. Alzarsi prestissimo, tipo alle 5. Salta sul tappeto elastico per far felici anche i tuoi vicini di sotto. Poi spremiti un limone dentro un bicchiere di acqua tiepida e bevitelo. Poi scrivi 8 poesie. Fai il saluto al sole. Corri 10 km. Poi fai stretching. Fatti una doccia gelata in inverno, bollente in estate. Dopo che ti sarai congelato o ustionato, sarai pronto per la giornata lavorativa. Sono solo le 8. Dividi la giornata in 4 quadranti. Ogni 2 ore alzati. Fai una piruetta sulle piastrelle pari, allinea le penne e torna a sederti. Se ti demoralizzi un attimo, ripeti l'antico mantra tibetano. Solo gli stronzi di capra tibetana si arrendono. Prima di pranzo e prima di cena fai una capriola che stimola il metabolismo. E ingerisci solo alimenti naturali, tipo muschio, staccionate, pietrisco. La domenica puoi sgarrare e mangiare il gaspaccio. Prima di andare a letto guardati allo specchio e domandati Che adulto voleva diventare il bambino che sono stato? Non uno con una giornata così, risponditi. Addormentati fra lacrime e singhiozzi e ricomincia.